Sousan, vuoi prendere Jerry come tuo sposo? Mi dite che succede? Siamo un gruppo di amici che gioca sempre a Prendimi da 30 anni. Come? Per tutto il mese di maggio ogni anno giochiamo a Prendimi. Prendimi! Sulle palle non dalle! Il nostro amico Jerry è il più bravo. E ora si vuole ritirare. Chi l'ha preso? Sì, presto. Quest'anno beccheremo Jerry. Sincronizziamo gli orologi. Io non so come si fa. Io non porto l'orologio. Il tempo è una convenzione. Sembra che il gioco vi abbia fatto restare legati. Avanti, è da un po' che non lo facciamo. Può diventare un po' competitivo a volte. Caffè alla nocciola. Ma chi beve le nocciole? Non lo facciamo. Ma chi beve le nocciola. Non lo facciamo. No lo facciamo! Ma chi bevele nocciola. Grazie a tutti. Non lo facciamo. Grazie a tutti